Non posso, ho chiamato due volte! Ciao tesoro, come stai? Finalmente! È la terza volta che chiamo. Lo so, si riceve male quassù. Sono le sequoie, secondo me, bloccano il segnale. Che rottura. Com'è andata ieri sera? Ci siamo divertiti. Serata tranquilla, ma piacevole. Sono contenta. Sto imparando un sacco di cose sui vini. Vorrei tanto poterlo allattare, sai? Bene, sì, senti. Ci aspettano per un giro in trattore, mi sa che devo andare. Un trattore. Un tour per le vigne. Sentete dall'auto. Che è stato? Hanno appena acceso il trattore. Un ritorno di fiamma. Dove diavolo sta? Calma, calma, credo che cerchiamo la stessa persona, ok? Ma cazziaolo fai! Che cazzo succede, tu? Cos'è un bambino? Un bambino in un'azienda vinicola? No, è una capra! Dimmi, dov'è? Io non so di cosa stai parlando. Senta, potrebbe accendere il trattore, così andiamo via. Ci sto provando, ma siamo bloccati, cazzo. Mio Dio, ma che diavolo succede? Ehi, c'è un bambino a bordo. Ho sentito dire bambino. C'è invece da l'auto. Ho sentito un buon vino? Calma, calma. Oh, cinese, perché dai fastidio ai miei clienti? Non compriamo niente. Ho detto fuori cazzo. Ho una pistola, fritto. Ma testa, che cosa? Ti richiamo dopo. Ma che cazzo sta succedendo? Ma spalata, Andy! Che cazzo! Vai, 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 vai! È fatta? Che cazzo di storia? Chi erano quelli? È tutto a posto. È tutto a posto, piccolino. Ma che cazzo sta succedendo?